Il Presidente del Consiglio regionale Mario Pietracupa, affiancato dal candidato Presidente del centro-sinistra Paolo Frattura, ha incontrato la stampa per far conoscere agli elettori i motivi della sua decisione di non ricandidarsi, né sul listino maggioritario né sul proporzionale. No, non c'è stata alcuna rinuncia perché non era proprio impreventivo, quindi era una cosa già scontata, una decisione già presa. La politica, come ho sempre detto, deve essere fatta secondo me a un certo livello, deve essere fatta con passione, deve essere fatta col cuore e si può dare un contributo importante a prescindere da quello che è il proprio ruolo, anzi un invito ai cittadini a diventare protagonisti. Oggi contribuisco da cittadino e immagino che anche i nostri cittadini vogliono dare il loro contributo scegliendo liberamente chi dovranno essere, quelli che dovranno essere i propri rappresentanti. Ma qual è il vero motivo per il quale il Presidente del Consiglio uscente non si ricandida? Nel momento in cui il mio confronto con gli amici con i quali ho percorso un lungo tratto di strada non è andato a buon fine. Io penso che sia anche un esempio importante di coerenza, anche un esempio importante di rispetto delle persone. Non me la sentivo di scendere in campo ed essere magari anche l'alfiere a combattere chi fino a ieri era anche stato dal punto di vista personale vicino a me. Io rispetto le persone, rispetto l'amicizia, io rispetto i sentimenti, insomma. Non può esserci un passaggio così rapido, diventa complicato. Sapevo bene che mi sarebbe costato sacrificio sotto questo profilo perché ho svolto questo ruolo con entusiasmo. L'ho fatto bene, per me almeno mi sono così sentito gratificato per quello che ho fatto. Però ho voluto farlo anche dando un segnale. Non si può essere sempre legati al rapporto diretto, a quello che deve essere un ritorno immediato. Si possono fare anche delle scelte volando un pochino più in alto. Tra l'altro, fuori dalla competizione, saranno anche gli altri due consiglieri regionali dell'ADC, Riccardo Tamburro e Vincenzo Bizzarro. Pietracupa comunque ha ribadito che sosserrà Paolo Frattura e ha invitato tutti ad abbassare i toni del confronto elettorale che sono già diventati rissa. Serve un confronto civile corretto, ha detto, per confrontarsi sulle cose concrete. Da sempre ho rivolto questo invito ad abbassare i toni, ma nel caso specifico mi sembra che si sia impostata la campagna elettorale sul dileggio, sull'offesa, sullo scoop mediatico e soprattutto sulla violenza, proprio a livello verbale, fatta in maniera scientifica. Mario Pietracupa infine ha annunciato che tornerà a fare il lavoro di sempre e sarà ancora più libero di fare politica. E' cambiare il movimento.